Amici sportivi, appassionati dei Ranger, una partita davvero molto importante, sabato alle città di Corigliano alle 14.30. Arriva il Trebisacce, la prima della classe di Mister Malucchi che salutiamo. Allora, sicuramente sarà una bella partita contro un Trebisacce che nel passato recente ha fatto bella figura anche in eccellenza, in promozione. È una società che certamente si sta riorganizzando per ripartire alla grande. In prima categoria, secondo me, è di passaggio. Sia come Rosa che come organizzazione merita di più, ma bisogna fare i conti con i Ranger. Allora, sabato un appuntamento da non perdere. Sicuramente è una partita importante, sia per loro che anche per i Rangers, anche se ci sono opposti obiettivi. Noi, per migliorare la nostra classifica, loro giustamente per puntare all'obiettivo finale della vittoria del campionato. Sicuramente è una società che non lo scopriamo noi, di nobili passati. Insomma, quindi credo che alla fine, come dicevi tu, il Trebisacce sarà solo di passaggio per la prima categoria. I Rangers sono reduci da un pari esterno in quel di Tarsia, una partita vibrante, agonisticamente molto tirata. In gol Lombisani è perfetto. Questa squadra è una squadra giovane, sta cercando di fare di necessità virtù. Mister Pagino sta lavorando in modo molto professionale. E bisogna guardare forse partita per partita. Questo è il campionato dei Rangers. Ma arrivato a questo punto credo proprio di sì. È una squadra molto, molto giovane. Diciamo che poi per la strada abbiamo perso qualche elemento importante, per varie ragioni che non stiamo qui a dire. Comunque diciamo che i Rangers vanno avanti con la solita passione, con la solita sportività. E logicamente vedranno gara per gara quello che potranno fare. Speriamo in una bella cornice di pubblico. Come dicevamo, questo campionato vede tante protagoniste. Però il Trebisacce ha messo le cose in chiaro e sta facendo davvero molto bene. I numeri dicono questo. Ci sono tante altre formazioni che possono ambire alla vittoria finale. Però ogni partita va giocata. Quindi i Rangers questa volta in casa, ma da favoriti. Speriamo di vedere anche una bella cornice di pubblico. Sperando ovviamente in una bella giornata di sport, ma sarà sicuramente così, perché i Rangers mettono al primo posto l'ospitalità e il fair play. Certamente. Io mi auguro di questo. Insomma, che vediamo se riusciamo ad avere anche una buona cornice di pubblico. Logicamente sarà poi il campo a decidere le sorti della gara. Logicamente i Rangers ce la metteranno tutta. Quindi vedremo come andrà a finire. E speriamo di un risultato positivo anche per noi. Speriamo in una bella giornata. Noi ve la racconteremo con Cesare Mingrone. E quindi naturalmente appuntamento a tutti gli sportivi sabato alle 14.30 al città di Corigliano. Arriva il Trebisacce, la capolista di Mr. Malucchi. In bocca al lupo ad entrambe le squadre che scenderanno in campo.